Nonostante il disco verde di Martina Franca, il Lecce resta in coda a play-off. Davanti sempre tre squadre, Casertana, Juve Stabia e Matera. Due posti per quattro formazioni. Una bella lotta. Fra 180 minuti saranno assegnate le due posizioni che garantiranno gli spareggi promozione. Se la Salernitana è stata promossa in Serie B, il Benevento è al sicuro, anche se non aritmeticamente, da ogni possibile sorpresa. I giallorossi dovranno raccogliere sei punti contro Ische sul campo della Vigor Lamezia, sperando che al termine della stagione regolare una delle squadre predette sia dietro alla formazione di Bollini. La speranza è che già domenica possano esserci dei vantaggi per la formazione leccese, ma nella migliore delle ipotesi, Lecce, in caso di successo, potrebbe superare la Casertana, che dovrebbe perdere in casa contro il Savoia, e avvicinare Juve Stabia e Matera, impegnate in casa contro Vigor Lamezia e Melfi. Tutto si deciderà l'ultima giornata, ma il Lecce si può tenere in corsa solo vincendo contro Ische, avvendicando anche la sconfitta dell'andata poco prima di Natale, che costò la panchina a Lerda. Domenica prossima, per l'ultima partita casalinga della stagione regolare, Bollini riavrà Davide Muscardelli, il capo canoniere del Lecce assente dalla sfida di Catanzaro quando rimase in campo appena nove minuti prima di abbandonare il terreno di gioco perché espulso dall'arbitro. Un'assenza pesante per il tecnico giallorosso che ha dovuto fare di necessità virtù e non ha potuto contare neppure su Manconi, ma in perfette condizioni. Durante il periodo di assenza di Muscardelli, l'ex Novara si è visto solo nell'ultimo quarto d'ora della partita di Melfi. Quello di Muscardelli è un rientro importante per l'allenatore giallorosso perché consente di attuare un altro tipo di manovra, contando pure sui guizzi che l'attaccante italo-belga ha nelle proprie corde. Nell'uno contro uno può creare superiorità numerica, conquistare un calcio piazzato da posizione favorevole, consentire alla squadra di salire attuando una manovra penetrante. Insomma, Bollini potrebbe abbandonare la formula con il falso a nueve, rappresentato da Dumbia, decisivo nelle ultime due sfide contro Foggia e Martina. Due reti pesantissime che consentono al Lecce di restare in corsa nella volata play-off. L'allenatore giallorosso verificherà pure le condizioni di Abruzzese, rimasto in panchina sabato scorso al Turzi. Il centrale andriese è stato sostituito da Vineto. Difesa che ha subito delle varianti a inizio secondo tempo, quando è rimasto nei spogliatoi di Chiara. E al suo posto Bollini ha spostato l'epore, il quale ha occupato quella posizione, anche quando è entrato Lopez, titolare di ruolo, ma spostato nell'inconsueta posizione di interno. Una scelta che ha sorpreso, forse pure, i diretti interessati, ma che si potrebbe riproporre in caso di emergenza.